Matera con il suo fascino senza tempo si è affermata come una destinazione turistica di risonanza internazionale, ma il suo successo non dovrebbe essere limitato a soli tre o quattro mesi all'anno. Questo è il grido d'allarme di Giovanni Angelino, un fervente sostenitore di Matera nel cuore. Questa affascinante città dice che ora paragonabile a mete turistiche di fama mondiale come Roma, Firenze, Venezia e Napoli, merita un costante afflusso di visitatori. Sabato 14 presso l'Otel San Domenico Angelino ha quindi riunito politici, imprenditori e cittadini per discutere del futuro del turismo a Matera. Bisogna fare il massimo per Matera perché Matera è rimasta a 2019, questa amministrazione si è proprio bloccata, non riesce a fare nulla. Capacità di ospitare, capacità di offrire servizi di qualità, capacità di sapersi confrontare con il resto del territorio, che è una risorsa per la città. Abbiamo bisogno di trovare i meccanismi giusti per tenere Matera sempre ai livelli elevati e su questo dobbiamo lavorare di concerto e trasversalmente alle forze politiche e sistemi. Per fare turismo ci vogliono infrastrutture, per fare turismo ci vogliono contenitori, per avere una presenza turistica che merita la città ci vuole un programma di destra giornalizzazione del turismo.